Allora, stasera noi non siamo poliziotti, siamo solo ricchi signori in cerca di divertimento e se giocheremo bene le nostre carte potremmo raccogliere informazioni. Salve! Ciao! Konnichiwa e benvenuti al miago. Posso offrirvi un tavolo? Sì, il migliore. Oh! Tavolo 7. Sia di vicino a me, ecco. Molto bene. Allora, è la vostra prima volta al miago? Sì, no. Beh, lui e io siamo già stati qui, ma io sono sposato. Va bene, molti uomini qui lo sono. Sì, ma sono davvero sposato. Ecco qui, sì. Grazie. Ecco, tieni. Sì, è meglio lì. Sai, l'ultima volta che siamo stati qui c'era quella ragazza... Quella con i capelli corti, come in Pulp Fiction. Vuoi dire Jade? Jade, sì, Jade. Voi ragazze l'avete vista di recente? Beh, vedete, quello che il mio amico non vi dice è che in realtà ha una piccola cotta per Jade. Sì, piccola. Oh, vedrai. Ti farò dimenticare tutto di lei. Vuoi pagare per il privé? Oh, no, grazie. Sto bene qui. Credo proprio di no. Non si stai chiedendo di Jade. Sei sicuro di non voler andare nel privé? Sì, sì, certo che voglio andare nel privé. Ehi, Castle, dove vai? Vado a fare quello per cui siamo venuti. Voi copritemi e intrattenete queste bellissime signore. Che fa? Aspetta un minuto, sono lusingato. Fa finta o finiscono i guai. Sì, è giusto. Ok. Perché stai chiedendo di Jade? Non sei uno dei suoi clienti. No, no, sono un amico. Lei sta bene? È morta. Lo sapevo. L'ho capito stasera, non è venuta. Sono arrivati a lei. Chi? Ehi, chi è arrivato a lei? Ho cercato di avvertirla, ma non voleva smettere. Smettere cosa? Scusa. Scusa. Devo telefonare. Tra un minuto. Cosa non voleva smettere? Che diavolo fa là dietro? Non lo so. Sapete una cosa, signore? Non mi piace affatto questo sake. Magari potremmo avere un'altra bottiglia, qualcosa di meglio, più costosa. Mi piace quello che hai detto. Torno subito. Certo, ti aspetto.